Asciutto con la sua pelettone, quindi significa che non è stante, e pensate, i giri più veloci sono in fondo su quelli, e si sta fermando infatti anche una McLaren ed è proprio quella di Berger, che è andato via in derrapage nella parte di rallentamento dell'Electro da Box, vediamo le velocissime soste ai Box per cambio gomme della McLaren che questa volta invece ha un problema sull'anteriore sinistro, no la macchina non può partire, c'era qualche cosa che toccava, è rimasto danneggiata la presa d'aria, lo scotch sulle presa d'aria anteriore è stato tolto, ma ci ha messo troppo tempo, pensate, ha sbagliato anche la cambiata, l'avete sentito da rumore, Berger nel nervosismo di perdere secondi di sua età, tutto vantaggio di Marseille, che manco!